Alla fine dell'anno mancano poco più di nove mesi e dentro quella data il nostro paese rischia di perdere quasi 30 miliardi di euro di finanziamenti europei se non sarà in grado di spenderli. A lanciare l'allarme l'Ufficio Studi della CGA di Maestre, secondo il quale dei 64 miliardi e 800 milioni di euro di fondi europei di coesione messi a disposizione dell'Italia nel periodo 2014-2020, la spesa certificata da Bruxelles al 31 dicembre scorso è stata di 35 miliardi pari al 54 per cento del totale. Entro la scadenza di attuazione di questo settennato quindi il 31 dicembre dobbiamo spendere i restanti 30 miliardi pari al 46 della quota totale di cui 10 di cofinanziamento nazionale. Nel Veneto la situazione non presenta criticità ma nel resto del paese le cose stanno diversamente. Nel mezzogiorno ad esempio sono a rischio molti fondi di coesione europei ma anche le risorse del PNRR. Nel momento in cui gli investimenti pubblici scarseggiano sarebbe un delitto non riuscire a mettere a terra tutti i soldi che ci sono stati stanziati dall'Europa. Il Veneto ha speso quasi il 90 per cento delle risorse rimangono da spendere 71 milioni ma fatto salvo che le due regioni che hanno già utilizzato maggiormente le risorse europee sono Lazio e Molise le amministrazioni che appaiono più in difficoltà si trovano nel mezzogiorno. La Sicilia deve spendere quasi un miliardo e mezzo, la Campania un miliardo e quasi 300 milioni. Chi al sud si oppone alla riforma dell'autonomia dovrebbe riflettere seriamente perché alcune regioni invece chiedono di gestire in prima persona molte funzioni e altrettante competenze. Grazie. Grazie a tutti.